Ciao ragazzi, come state? Spero stiate bene, purtroppo qui su Classroom non abbiamo un'interazione live, qualche lezione online collettiva magari la faremo qualche volta sulla teoria, ma in questo frangente non mi è sembrato opportuno, ho preferito registrarvi un video sugli intervalli, dato che moltissimi di voi non mi hanno portato gli esercizi come mi sarei aspettato, quindi ho notato proprio che non è stato compreso questo argomento qui. Vi registro un video così ve lo potete rivedere 50 volte e potete capire questo discorso sugli intervalli. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dare una definizione molto generale di intervallo, che è una distanza tra due suoni tratti dalle scale, quindi li possiamo già chiamare non suoni ma note, banalmente. Nel nostro caso ci accontentiamo della parola nota. Questa definizione è una parafrasi di quella di Walter Piston, che appunto dice due suoni tratti dalle scale, noi possiamo dire due note tratti dalle scale, ma non siamo noi a inventarci questo concetto, è appunto Walter Piston in uno dei manuali più studiati nei conservatori italiani che si chiama Armonia, lo potete anche cercare su Amazon. Comunque ci sono anche in rete ormai mille modi di reperire questo libro. Spero che mi sentiate perché mi sono attrezzato con un microfono costosissimo, ma vedo dall'applicazione che non sale molto bene l'audio. Comunque, questa distanza prende un nome. Quando noi diciamo, per esempio, intervallo di terza maggiore, intervallo di quarta giusta, stiamo sostanzialmente dando una prima parte che si ottiene contando righe e spazi che separano le due note sul pentagramma. Quindi, per esempio, un esempio di questa cosa qua è, abbiamo detto, quarta, terza, quinta e così via. La seconda parte di questo... del nome di un intervallo, quando noi diciamo maggiore, giusta, si ottiene confrontando la scala maggiore costruita partendo dalla nota inferiore con l'esito della nota superiore. Ovviamente, come potrete immaginare, la maggior parte di voi si è fermato, si è arenato proprio su questa seconda parte, perché contare righe e spazi ovviamente è più semplice rispetto a confrontare la scala maggiore costruita partendo da una nota inferiore o l'esito della nota superiore. Questa cosa qua, in realtà, è una banalità, è una cosa abbastanza semplice, soltanto che un attimo è complessa da capire in un primo momento. Allora, prendiamo un intervallo qualsiasi. Il nostro classico Do-Sol. Anzi, prendiamone un altro. Prendiamo Mi-Do, perché sto Do-Sol ci ha rotto abbastanza le scatole. Allora, Mi-Do è un intervallo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi di sesta, di sesta. Non sappiamo ancora bene cosa. Scriviamocelo qua. Ma, appunto, sesta cosa. Costruiamo la scala maggiore sulla nota più bassa, ovvero la scala di Mi maggiore, andiamola a costruire insieme. Allora, si parte naturalmente dal Mi e si dispongono tutte le note fino al Mi successivo, tutti i nomi delle note fino al Mi successivo. Questo è il primo step per costruire una scala. Dispongo tutte le note, quindi non avrò Mi, Mi, Sol, La, La, Si, cioè non avrò ripetizioni di nomi. Dovrò disporre tutti i nomi delle note dal Mi al Mi successivo, quindi Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Non devo saltare nessun nome. Per fare questo mi servo della scala fondamentale. Vi lascio il link sotto questo video su cosa sia una scala fondamentale. Comunque, è sostanzialmente l'insieme dei nomi delle note che conosciamo fin da bambini. Quindi questo insieme di nomi poi deve presentare delle alterazioni. E noi sappiamo benissimo che, guardando il circolo delle quinte, la scala di Mi maggiore ha questi quattro diesis, che sono sul Fa, sul Sol, sul Do e sul Re. Adesso lui ce li scrive Bequadro, perché ovviamente noi prima avevamo scritto soltanto dei nomi e non avevamo ancora messo il diesis. Mettendo queste alterazioni, sostanzialmente dobbiamo fargli capire che le rispettiamo, quindi non c'è un Bequadro qui. Non c'è un Bequadro qui, non c'è un Bequadro qui e neanche qui. Rispettando queste alterazioni, il Fa è diesis, il Sol è diesis, il Do è diesis e il Re è diesis. Quindi non compare nessun segno davanti alle note perché ce lo indica già l'armatura di chiave. Ascoltiamo. Questa è una scala di Mi maggiore. Ora, torniamo al nostro intervallo. Abbiamo costruito la scala di Mi maggiore. Il Do fa parte della scala di Mi maggiore? Beh, a un primo sguardo ci verrebbe da dire sì, però se andiamo a vedere nell'armatura di chiave, no, perché quel Do è diesis. Vedete che è diesis? Quindi in realtà non fa parte della scala di Mi maggiore. Il Do naturale non fa parte della scala di Mi maggiore perché nella scala di Mi maggiore il Do è diesis. Quindi cosa vuol dire confrontando la scala maggiore costruita dalla nota inferiore con l'esito della nota superiore? Vuol dire che dobbiamo capire che differenza ci sia tra questa nota e questa nota. Beh, la differenza è che il Do del nostro intervallo è stato abbassato di un semitono rispetto alla scala. E quindi quando noi abbassiamo di un semitono un intervallo, scusatemi, una nota che fa parte della scala, otteniamo che l'intervallo non è maggiore ma è minore. Adesso, se questa cosa non è chiara, la ripeto una seconda volta. Se io prendo un intervallo e mi accorgo che la nota superiore fa parte della scala che ho costruito sulla nota più bassa, scala maggiore ovviamente deve essere maggiore. Io lo chiamerò maggiore, ma siccome in questo caso non fa parte della scala, la nota non è Do nella scala ma è Do diesis, l'intervallo non sarà maggiore ma sarà minore perché è stato abbassato di un semitono. Non abbiamo Do diesis ma abbiamo Do. Quindi sul pianoforte abbiamo il tasto immediatamente prima, che sia bianco o nero, no? Ultimo discorso, e poi ho finito di torturarvi, per quanto riguarda gli intervalli giusti. Allora, se noi prendiamo un qualsiasi intervallo, per esempio prendiamo una terza, va bene? Una terza, se io la... in questa cosa è maggiore, quindi Do mi, il Mi fa parte della scala di Do maggiore, quindi io lo considero un intervallo di terza maggiore. Se io prendo il Do e lo rivolto, si dice, cioè lo porto all'ottava superiore da Do, lo scrivo sul Do immediatamente sopra, non ho più un intervallo maggiore, ma mi diventa minore. La riprova l'abbiamo già fatta, perché questo non è altro che l'intervallo che abbiamo visto prima, dove il Mi aveva il Do diesis, che qui non troviamo, qui il Do non è diesis ma è naturale. Quindi abbiamo già visto prima che si tratta di un intervallo di sesta minore. Questo fenomeno, tale per cui noi prendendo un intervallo e rivoltandolo, gli cambiamo proprio natura? Cioè da minore passa maggiore. Da maggiore, come in questo caso, abbiamo visto era una terza maggiore, se noi la rivoltiamo diventa una sesta minore, cambia la sua... cambia la seconda parte del nome, no? Non è più maggiore ma è minore. Questa cosa qua non succede per gli intervalli giusti. Gli intervalli giusti sono quelli di quarta, quinta, ottava e unisono. Allora, lo andiamo a scrivere qui. Quindi, nel caso degli intervalli di quarta, anzi mettiamoli in ordine, unisono, quarta, quinta, ottava, succede qualcosa di diverso. Perché cosa abbiamo? non abbiamo più questo fenomeno, tale per cui se io rivolto l'intervallo mi diventa minore, viceversa. Perché prendiamo una quarta, anzi prendiamo una quinta, do sol, quella che abbiamo preso prima. Se io la rivolto non diventa minore, rimane una quarta giusta. Infatti il do fa parte della scala di sol maggiore. Se voi vi fate il calcolo, costruiamo la scala di sol maggiore. Avrà ovviamente il fa diesis. Questa scala ha il do naturale. Sentite che è lo stesso suono? Spero che si senta perché... Quindi non è maggiore, perché abbiamo detto che non si dice maggiore in questo caso. Nel caso di unisono, quarta, quinta e ottava, non esiste il termine maggiore, perché non esiste per il fenomeno che abbiamo visto prima. Adesso ve lo spiego ancora meglio. Ma avremo un intervallo giusto. E l'intervallo giusto o diventa eccedente o diventa diminuito. Non ha vie di mezzo. Quindi non passa dal minore e non passa dal maggiore. Perché succede questo? Perché non esiste il minore di un intervallo di quarta. Perché se io lo rivolto, non diventa minore. Rimane giusto. Se io prendo un intervallo di quinta, abbiamo detto prima do sol, e lo rivolto, rimane un intervallo giusto. Quinta giusta, perché il sol fa parte della scala di do. Lo rivolto, il do fa parte della scala di sol. Quindi è comunque un intervallo... dovrebbe essere un intervallo maggiore. Ma abbiamo detto che non si chiama maggiore. Si chiama giusto. E come facciamo a renderlo minore? Non si può. Perché per renderlo minore dovrei verificare la sua natura rivoltandolo tecnicamente. E questa cosa non è possibile. Quindi si dice che, per esempio, sol, do bemolle non sia un intervallo minore, ma sia un intervallo diminuito. Va bene? Quindi il concetto è questo, sostanzialmente. Spero che sia abbastanza chiaro da questo punto di vista. Sposto un attimo soltanto queste cose qua. Purtroppo non me lo fa fare, va bene. Questo comunque è il concetto di quello di cui abbiamo parlato oggi. Quindi unisono, seconda, quarta, sesta. È la prima parte del nome. Maggiore, minore, diminuito, eccedente, più che eccedente è la seconda parte del nome. Scriviamo 2.1, perché poi alla fine è lo stesso concetto del 2. Nel caso degli intervalli di prima, quarta, quinta, ottava, succede qualcosa di diverso. Perché non abbiamo un intervallo maggiore, ma è giusto. Non si chiama maggiore, ma è giusto, perché rivoltandolo rimane della sua natura. Mentre nel caso di altri intervalli, per esempio, mi, sol, che sarebbe un intervallo minore, perché nella scala di mi maggiore il sol, lo abbiamo visto prima, lo vedete anche qua dall'armatura di chiave, vedete, sarebbe diesis. Infatti lui ce lo segna come bequadro qui. Ecco, questo intervallo rivoltandolo diventa maggiore, perché in sol maggiore il mi fa parte della scala di sol maggiore. Quindi questo è tutto quello che avevo da dirvi sugli intervalli. Naturalmente, se voi avete una situazione in cui non siete in chiave di violino, ma siete in chiave di basso, spero che si veda come negli esercizi che vi ho dato, e trovate una cosa di questo tipo, Do, Fa, chiaramente non penserete di contare tutte le righe e gli spazi fino a qui. Voi contate le righe e gli spazi fino al primo Fa che incontrate, quindi Do, Re, Mi, Fa. Do, Re, Mi, Fa. È una quarta. Quindi una volta che voi capite che questo qua in alto è un Fa, non vi andate a contare tutte le righe e tutti gli spazi, semplicemente abbreviamo in quarta. Cioè riduciamo un intervallo complesso in un intervallo semplice, vengono proprio definiti così. In altre parole, lo riduciamo alla sua ottava di origine, all'ottava di origine della nota più bassa, o più alta. Potete farlo anche al contrario, il discorso se siete più comodi in chiave di violino. Voi vedete che questo è un Fa, vedete che questo sotto è un Do? Bene, cancelliamo il Do, lo portiamo qua su, il primo che incontriamo verso il basso, e poi ci calcoliamo che si tratta di una quarta. Quindi non vi andate a complicare la vita a pensare a dodicesima, tredicesima, no, assolutamente. In questo contesto non è utile. In altri contesti, gli intervalli di nona, undicesima e tredicesima saranno utili per riconoscere alcuni tipi di accordo. Concludo questa lezione, che credo sia durata moltissimo, ma era essenziale, perché sono giorni che purtroppo mi date degli esercizi che non vanno bene, dicendovi, per esempio, una prima utilità degli intervalli. Andiamo nelle settime, accordi di settima. Voi sapete che ci sono vari tipi di accordi di settima. Settima di prima specie, di seconda specie, di terza specie, di quarta specie, di quinta specie, sesta e settima specie. Ci sono anche quelle. Gli accordi di, per esempio, settima di seconda specie, prendiamo, per esempio, sono accordi formati da una terza maggiore, una... no, scusate, mi sto sbagliando, una terza minore, una quinta giusta e una settima minore. Voi come potreste riconoscere questo accordo senza conoscere gli intervalli? Non è possibile. Quindi capite perfettamente che questa cosa qui si rivelerà estremamente utile nel corso del vostro studio e va capita, va conosciuta. Quindi, detto questo, davvero finito. Simone e Caterina, non faccio i vostri cognomi perché magari vorrò riutilizzare questo video, o caricarlo su YouTube, ma avete capito perfettamente di chi sto parlando. Non vi preoccupate se non avete capito una parola di quello che è stato detto in questo video. Vi spiegherò la lezione e poi online troverete questo piccolo... questa piccola lezione per ripassare. Va bene? Quindi non vi preoccupate ora in questo momento. È rivolto alle altre dieci persone a cui è già stata spiegata questa cosa, che non sono nuovi come voi e che purtroppo non mi hanno portato gli esercizi come li avrei voluti vedere. Benissimo, quindi ancora una volta io vi auguro una buona giornata, una buona serata, in base a quando stiate vedendo questo video. Un forte abbraccio. Ciao ragazzi!